Gloria a Dio, lettera agli ebrei, capitolo 10, dal versetto 36, poi leggeremo il capitolo 11, sempre della lettera agli ebrei, dal versetto 1 al versetto 6. Infatti avete bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso, perché ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà, ma il mio giusto per fede vivrà. E se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro, a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima, dice un'altra versione, per ottenere la vita. Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Infatti per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Per fede comprendiamo che i monti sono stati formati dalla parola di Dio. Così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per mezzo di essa gli fu resa testimonianza che egli era giusto quando Dio attestò di gradire le sue offerte e per mezzo di essa, benché morto, egli parla ancora. Ora, andiamo avanti al versetto 6. Or senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Gloria al nome santo del Signore. Abbiamo letto nei versetti precedenti, quelli iniziali, dice infatti voi avete bisogno di costanza, che non è una persona ma sta parlando di perseveranza nella prova. Perché non è un caso che Dio permette delle prove, delle difficoltà nella nostra vita, come è stato letto anche dalla sorella, che questi discepoli mentre stavano sulla barca all'improvviso è arrivata questa tempesta. E questo purtroppo, no purtroppo, accade anche a noi, queste tempeste improvvise, che possono essere una malattia o diverse malattie, patologie, problemi diversi. Ognuno di noi vive queste difficoltà, fratelli. Ieri il fratello nella predicazione l'ha anche specificato. Dice ognuno sembra che la prova personale sia sempre più grande di quella degli altri, ma non è così. Ognuno di noi ha le sue prove e le sue difficoltà che pesano, pesano nei propri cuori. Poi dipende molto dalla nostra fede, fratelli e sorelle, che viene messa alla prova. Dice qua al versetto 39 del capitolo 10 degli ebrei, Ora, scusate, il versetto 38, ma il giusto per fede vivrà e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Ora, questo tirarsi indietro non significa, quando noi aranchiamo nelle prove, che magari andiamo avanti a fatica, ci stanchiamo. Il Signore non sta parlando di questo, ma sta parlando solamente di momenti che proprio noi decidiamo di non seguirlo più, di non volerne sapere più niente. Ma questo non è il caso nostro, fratelli. Noi non stiamo in questa condizione, noi stiamo qua per cercare il Signore, per aspettare un suo divino intervento. E grazie a Dio, nonostante tutte le fatiche, tutte le difficoltà, siamo qui, alla sua presenza. E questa è già una cosa che è gradita davanti a Dio. Dice, or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Or senza fede, dice, è impossibile piacergli al versetto 6, perché chi si accosta a Dio deve credere che egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Tutti. Nessuno escluso. Ogni tanto, o forse anche un po' spesso, è necessario che noi, concedetemi la parola, rinnoviamo la nostra fede. O meglio ancora, la esaminiamo. È scritto nella parola di Dio. Ora, dice, esaminatevi per vedere se siete nella fede. È buono che ogni tanto ci fermiamo e andiamo a controllare la sticella della nostra fede, per vedere se in qualche modo questa fede è cresciuta nel tempo oppure magari le difficoltà l'hanno un po' portata a scemare, a scendere. Non ci dobbiamo, fratelli, avvilire quando questo accade, ma dobbiamo solamente chiedere al Signore perdono e chiedere il suo aiuto. Di, come disse quell'uomo, Signore, io credo, ma ti prego, però vieni incontro alla mia incredulità. Può succedere questo. Ed è difficile ammettere questa caratteristica, questa cosa che può verificarsi nella nostra vita. Cioè, è difficile, specialmente per il nostro orgoglio, dire io ho poca fede oppure dire davanti al Signore perdonami perché non riesco a credere. E invece dobbiamo, fratelli, con l'aiuto del Signore considerare questo ed essere sinceri con noi stessi e con Dio. Quando vediamo che questa fede non è così sincera, non è così reale, così viva, dobbiamo dirlo al Signore. Anche perché la fede, fratelli, siccome è certezza di cose che si sperano, produce in noi qualcosa di particolare. E una di queste cose è la gioia. Beh, se tu sei sicuro, se io sono sicuro che il Signore mi risponde, nonostante tutte le difficoltà che io supererò questa prova, io posso già gioire adesso, lo dice la parola di Dio, delle cose che Dio mi donerà. Questa è certezza. Esaminiamo la nostra fede, fratelli. Quando il Signore Gesù ne tiene conto di questo, quando andò da Tommaso, gli disse non essere incredulo, ma credente. E questo è un po' il pericolo, fratelli, della Chiesa degli ultimi giorni, cioè ritrovarsi una fede fede debole. Lasciamo stare le dichiarazioni che vengono fatte, le affermazioni, quello che io posso dire, quello che voi potete dire. Adesso si usa molto, io non entro nel merito, nel giudizio, ma si usa molto dire, fare le dichiarazioni di fede. Io dichiaro questo e sono sicuro che avverrà. Poi magari non accade. Sapete perché non accade? Non perché il fratello o la sorella hanno commesso... Magari la fede non corrispondeva bene alle parole. Mi capite, vero? Quelle parole non erano accompagnate da una fede certa. E allora i risultati poi non si vedono. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Quindi quando noi ci accostiamo al Signore, dobbiamo avere, quando noi poniamo i nostri pesi, deponiamo i nostri pesi a Lui, dobbiamo avere la consapevolezza che Egli ne prende carico e interverrà. Dobbiamo avere questo, fratelli, nel cuore. Chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, è scritto, e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. È importante, fratelli, focalizzare questo. Chi si accosta a Dio. Noi siamo così abituati a chiudere gli occhi e a pregare che a volte non ci rendiamo neanche conto a chi ci stiamo rivolgendo, fratelli. Chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. E chi è il Signore? Beh, il Signore è il creatore di tutte le cose. Quindi non c'è una cosa troppo difficile per Lui, come disse a Geremia, Geremia, forse è un momento di sconforto, gli disse a Geremia, ma pensi che ci sia qualcosa di troppo difficile per me? E anche il profeta era un uomo come noi, fratelli, aveva bisogno di incoraggiamento, come tu in questa mattina, come me. Abbiamo bisogno che la nostra fede venga incoraggiata. Abbiamo sentito nelle testimonianze che il Signore quando vide quei discepoli che si affannavano, subito ne ebbe compassione e si avvicinò a loro. Entrò nella barca e tutto si acquetò. E grazie a Dio perché il Signore lo fa al momento opportuno. Nel frattempo noi siamo chiamati a credere, fratelli. Signore, aiutaci. Chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. La preghiera della fede, fratelli e sorelle, la preghiera della fede ci deve aiutare il Signore. In questo parlavamo con una sorella qualche giorno fa, con una cara sorella, e parlavamo proprio di questo. Il Signore ci deve aiutare a credere fermamente nella sua parola. Vedete, come dicevo prima, noi siamo abituati ad andare alla presenza di Dio senza renderci bene conto a chi ci stiamo rivolgendo. Vi ricordate Isaia, il profeta Isaia, quando, ma sicuramente Isaia era un uomo di preghiera, non è che era una persona così, ma a un certo momento Isaia va in preghiera e gli viene rivelata la santità di Dio. Vide il Signore assiso sul suo trono con questi angeli e Isaia rimane sconcertato da questo. Ma chissà quante volte Isaia era andato in preghiera, ma in quel momento si rende conto, in maniera veramente, fratelli, marginale, perché sennò sarebbe morto all'istante, chi era il Signore, la sua santità. Quando vede veramente chi è il Signore, che il Signore gli apre un pochino gli occhi, dice, ah, la so me io sono perduto perché sono un uomo dalle labbra impure che abita in mezzo a un popolo dalle labbra impure. Cioè si rende conto a chi ci aveva davanti, scusate le frasi un po' diretta, a chi si stava rivolgendo. Fratelli, ma noi ci rendiamo conto a chi ci stiamo rivolgendo? Non abbastanza. Non abbastanza, fratelli. Se fosse veramente così, tanti atteggiamenti, tante parole, tante espressioni non verrebbero usate, fratelli. Che ci sarebbe un santo timore nel cuore di stare attenti a non ferire il fratello, a non ferire la sorella, a incoraggiare l'opera di Dio sempre. Ma quando non c'è consapevolezza, non c'è neanche timore di Dio. Quando Giobbe apriva la bocca continuamente contro il Signore, si metteva al suo livello, ma poi quando interviene il Signore che veramente gli parla, ma gli parla veramente, oggi si sente troppo dire il Signore mi ha parlato, mi ha parlato, ma poi non cambia mai niente. Quando il Signore parla, trasforma i cuori, fratelli. Quando il Signore mi ha parlato all'inizio della fede, pochissime parole, non temere, solo, abbi, fede. Quelle parole hanno trasformato la mia vita. Quando Dio parla, fratelli, basta una parola. E poi è successo anche nell'arco, non solo quella volta, il Signore mi ha dato grazia più volte di sentire quella voce, quelle frasi della parola di Dio. Che il Signore continui, fratelli, a parlare ai nostri cuori, perché la parola trasforma, perché la parola trasforma, cambia, fratelli, ci illumina. Gloria al Signore. È importante, fratelli, è riconoscere il Signore. Vedete, ci sono, non so se vi è mai capitata questa esperienza, di avere un problema materiale, di conoscere una persona che aveva tutta la possibilità di intervenire, e quindi siete andati da quella persona con una certa fiducia. L'avete chiesto, poi avete visto che in realtà, sì, le possibilità ce l'aveva, ma la volontà no. Questo è quello che accade col mondo. Bene, quando ci andiamo a rivolgere al Signore, noi non solo sappiamo che Dio può intervenire in ogni cosa e risolvere ogni problema, ma sappiamo pure che Egli desidera aiutarci. Ma tu ed io, ce l'abbiamo questa convinzione? Quando andiamo ai piedi del Signore a deporre un problema che pesa notevolmente nei nostri cuori, ce l'abbiamo poi quella fede per dire Signore grazie, adesso l'ho messo nelle tue mani e tu per certo risponderai. Siamo sinceri con noi stessi, fratelli. Gloria al nome santo del Signore. Io in questa mattina voglio invitare te e me, con l'amore del Signore, a deporre veramente ogni peso ai piedi del Signore. Ogni peso. Ogni peso, dice la parola di Dio, è il peccato che così facilmente ci avvolge. La fede è questa, fratelli. La fede non è speranza, è certezza di cose che noi stiamo chiedendo a Dio. È inutile che ci giriamo intorno, fratelli. È inutile che facciamo dei discorsi che si avvicinano a questo argomento. No, la fede è questo. Quando Gesù andava dalle persone, gli diceva, credi tu che io posso far questo? Le persone rispondevano sì. Bene, sia fatto secondo la tua fede. Signore aiutaci in questo. Abramo, è stato parlato di Abramo, prima qualcuno di voi l'ha citato. Ebbene, Abramo, Dio aveva fatto delle promesse ed è scritto che egli non vacillò per incredulità davanti a quelle promesse, addirittura sperando contro speranza. Beh, non a caso è stato chiamato il padre della fede e ottenne quelle promesse, fu fortificato nella sua fede e diede gloria a Dio. Il Signore aveva fatto delle promesse ad Abramo. Bene, il Signore ha fatto delle promesse ad ogni uomo e donna che si trova su questa terra. Ci ha promesso la salvezza in Cristo Gesù. Ci ha promesso il battesimo nello Spirito Santo. Ci ha promesso la pienezza dello Spirito Santo, i suoi doni, i ministeri, la sua assistenza. Fratelli, noi dobbiamo credere nel Signore. Se vogliamo, lo sapete, il popolo di Israele commise il peccato più grave non dando fiducia al Signore. Cioè non attesero fiduciosi l'adempimento del piano del Signore. E lì si crearono i problemi. Gloria al nome santo del Signore. Dice la parola di Dio gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione. Sapete perché? Perché Egli ha cura di voi. L'amorevole cura del Signore, l'insostituibile cura del Signore. Però noi dobbiamo credere in questo, fratelli. Non è che ogni volta che andiamo in preghiera deponiamo questi pesi, poi li riprendiamo e andiamo avanti. Questa non è la preghiera della fede. Questa è la preghiera dell'incredulità. Sapete, la fede attira le benedizioni di Dio, fratelli. Noi non ci dobbiamo scoraggiare in questa mattina se sentiamo che questa lancetta della fede è scesa. Il compito della parola di Dio è quella di evidenziare queste cose e di incoraggiarci a confessarle al Signore. E Dio ci aiuterà in questo. Dice non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa siano rese le vostre preghiere note a Dio in preghiera. Non ti angustiare per quello che sta succedendo. Non ti angosciare. Perché tu non sei solo, tu non sei sola. Io e te non siamo soli. Abbiamo il Signore, fratelli. E quella sensazione di solitudine che proviamo, perché la proviamo, fratelli, beh, questo accade quando non stiamo abbastanza attaccati al Signore oppure quando Dio permette delle prove. Se no, non sarebbero prove. Vero, fratelli? Se noi potessimo affrontare quelle prove con la presenza di Dio forte nella nostra vita, quelle non sarebbero difficoltà, non sarebbero prove. Elia si trovava nel deserto solo, ma in quel deserto fu raggiunto dal Signore. E quante volte il Signore ci ha raggiunto a noi, fratelli, a me, a te, quando ci trovavamo in situazioni che noi non potevamo governare, che non potevamo risolvere. e il Signore si è accostato a noi, ci ha aiutato, ci ha risollevato, ci ha dato la forza per poter andare avanti. Matteo, capitolo 21, versetto 22. È buono che lo leggiamo insieme, questo versetto, molto importante. Matteo, capitolo 21, versetto 22. E poi ci avviciniamo, fratelli, alla conclusione. Tutte le cose che domanderete in preghiera, se avete fede, le otterrete. Fratelli, noi dobbiamo stare attenti perché quando ci rivolgiamo al Signore, Egli è un Dio fedele, è un Dio buono, amorevole, pieno di compassione. Quando parla dello Spirito Santo, dice, ma se voi che siete malvagi sapete dare buoni doni, ai vostri figlioli, quanto più, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo domandano. Ci credi tu che il Signore è buono? Ci credi che il Signore è fedele? Che nessuno è come Lui, come spesso cantiamo? Allora abbi fiducia. Tu, non temere, come disse a quell'uomo, abbi fede. Gloria al Signore. Forse c'è qualcuno, ma sicuramente in mezzo a noi che ha bisogno di incoraggiamento. Bene, l'incoraggiamento è proprio questo. Non temere. Continua a confidare in me. Abbi fiducia. Perché colui che ha cominciato in voi un'opera buona la porterà a compimento. Non abbiamo a che fare con l'uomo, fratelli. Non abbiamo, noi non ci stiamo rapportando con una persona, ci stiamo rapportando con Dio. Ecco dov'è a volte l'errore, lo sbaglio. Perché portiamo il Signore al nostro posto e magari non ci risponde, è assente, sta pensando ad altre cose, ci sono problemi più grandi. Tutti i pensieri nostri. Perché Egli è l'Iddio onnipotente che governa, che guarda, che vede ogni cosa. Quindi, cari fratelli e care sorelle, andiamo avanti. Perché il Signore, come diceva il nostro pastore precedente, non ha nessuna intenzione di abbandonarci. Amen, è vero fratelli e sorelle. Gloria al Signore. Concludiamo con Ebrei, capitolo 4, versetto 16. Proprio per concludere con un versetto della parola di Dio che ci insegna, ci aiuta ad accostarci a Dio nel modo giusto. accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia. Vogliamo chiudere gli occhi e pregare? Alleluia. Gloria al nome santo del Signore. Grazie. 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 Grazie.